Signore e signori, benvenuti alla 58esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La delegazione è con Milcio Manceschi. Buongiorno Milcio, Milcio. Questo è il proprio nome? Milcio? Sì, questo è il nome che uso. Quindi dove sei stato? Dove sei stato? Siete anni, dove sei stato? Beh, buone cose prendono molto tempo per succedere. Cosa pensi su quello che sta succedendo ora in Macedonia? Abbiamo soldati italiani, persone italiane, che sempre pensiamo. Pensiamo sempre ai nostri connazionali che sono in Macedonia. I hope they're okay. I hope, I really hope they're okay. Cioè pensa che andrà tutto bene per loro. What is going on right now is not nice. Cioè quello che sta succedendo non è bellissimo. E' una tragedia. E' una tragedia. But I hope it stops. I do have to say, even though this is probably not the moment, that those who armed the militants and trained them two years ago have some of the responsibility for what is happening to Macedonia today. Milcio, we used to think in the past, abbiamo pensato nel passato che il cinema in qualche modo potesse aiutare a far qualcosa contro la guerra. We thought that the movies could help to do something against the wars. I mean, I'm thinking about Israel now also. We have an Israeli movie here. Dico, penso anche a Israele. Do you think that the movies can do something against the war? I think the people who make the war probably don't go to these movies, they go to Sylvester Stallone movies. Cioè penso, forse sì, ma dice penso purtroppo che quelli che fanno la guerra non vanno a vedere questi film. Vanno a vedere magari Sylvester Stallone. So let's do a movie with Sylvester Stallone against the war. Facciamo un film con Sylvester Stallone contro la guerra. Let me think about that. Let me think about that. Che Signore e signori, ladies and gentlemen, Milcio Manceschi e i suoi attori. Why did you decide to come back here after, you know, seven years ago you win a Golden Lion? Why did you decide to come back here with your movie out of competition? Well, coming to Venice is like coming home. And coming home is always nice. So that was the real reason. Live your own life because you die your own death.